Ieri a San Giovanni Rotondo c'è stata la giornata organizzata dalla Caritas per raccogliere dei viveri per i più bisognosi. Non so in questo momento quale sia stato il risultato della raccolta, se poco o molto. Quello che ci interessa è il gesto nei confronti delle persone che vivono in questo momento molto peggio di noi, in situazioni veramente estreme, in situazioni che adesso cominciano anche a nevicare e avranno bisogno di tante cose. È un gesto che incoraggia noi che facciamo il bene e quelli che lo ricevono. Ci diciamo in questo modo, non pianciamo su noi stessi, non pianciamo solamente sui nostri guai. Il Signore ama quando anche in circostanze difficili siamo capaci di doare agli altri più bisognosi di noi e che il Signore possa offrirci le occasioni di fare il bene e che ci dia anche la forza di farlo e di perseverare nel fare il bene, perché Egli ci ha voluto bene e noi non facciamo altro che imitare quello che Egli ha fatto e rispondere a quello che Egli ci ha domandato.